Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore Sei proprio deciso allora? Ma che ti aspetti dal matrimonio? Vedi, impressione della normalità Sono pronto a partire, appena avrete deciso Avvicinare il quadri, ispirargli fiducia, entrare nell'organizzazione e cercare di scoprire i suoi corrispondenti qui in Italia Sì, 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 superbo Vi presenterete al fiduciario Raul Lui vi darà le ultime istruzioni Lerici, mi ero convinto che lei fosse il tipo dell'italiano nuovo È un tipo che non esiste ancora, ma lo stiamo creando Con la repressione? Io non voglio ammazzare nessuno Parte domani all'alba in macchina Momento, anche la moglie? No Ma che... Fascista! No, no, Marcello Anche lui cosa fai? Marcello Via, via, via